Siete abituati all'edicola di Fiorello? Ma lasciate stare, è un dilettante! È arrivata l'edicola di Giaconora, in realtà mi sono impossessato dell'edicola di Daniele Carella in piastra di Porta San Vitale, per mostrarvi il libro Poche Storie. Voi direte, è una marchetta spudorata? Certo, Giaconora è laureato in marketing e il libro Poche Storie lo trovate solo nell'edicola di Daniele Carella. Fiorello trema, è arrivato Giaconora con la sua edicola. No, 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 poi Carella sarà via, l'edicola è sua. Grazie a tutti.